L'estate si avvicina, bel tempo almeno lo speriamo e nel frattempo stanno cadendo le barriere tra le regioni e tra poco cadranno anche quelle tra gli stati, insomma si potrà ricominciare a parlare di turismo e di accessibilità. Sta per uscire come ogni anno la guida Village for All per persone abili e meno abili, l'ha voluta Roberto Vitale che è stato il suo inventore e che è il nostro ospite oggi, un saluto Roberto e con lui oggi c'è anche Gerry Longo che è l'inventore delle cene nel buio che ha voluto partecipare anche a questa novità, a questa nuova guida accessibile. Allora un saluto anche a te Gerry. Ciao Lucia e bentrovati agli ascoltatori. Ciao Lucia e ciao Gerry, eccoci qua. Roberto Vitale, insomma ricominciamo. Quali sono le novità della guida di quest'anno e se il lockdown, vorremmo sapere, ha inciso sui criteri che tu hai in qualche modo sperimentato nelle edizioni precedenti. Sì, beh certo il lockdown ha inciso quest'anno, ha inciso profondamente nella realizzazione della nuova guida perché come abbiamo verificato durante lo scorso anno sono sopravenute tutta una serie di esigenze che prima non erano contemplate come ad esempio il fatto di avere una mascherina trasparente per le persone sordi, della necessità di avere i dispenser del gel igienizzate alla testa giusta, anche per le persone in carrozzino o di bassa statura e così via. Tutto questa pandemia ci ha insegnato delle cose nuove che abbiamo aggiunto tra i criteri di classificazione della guida. Quest'anno, come tu sai, Village4All è un network che conta una settantina di strutture tra Italia e Croazia, sia nel mondo dei campeggi che hotel o anche strutture come agriturismi. Per fare la nostra guida quest'anno abbiamo scelto assieme all'azienda del nostro network di darci come tema, anno scorso erano il wellness e il benessere, quest'anno il tema è il turismo lento, quindi quello di cui parliamo molto in questi giorni, cioè del fare turismo di prossimità, un turismo dedicato ai territori che ci sono vicini e ci sono prossimi e quindi abbiamo scelto di lavorare su questo argomento. La novità è che sono felice finalmente di poter presentare in assoluto dal punto di vista tecnologico invece che la nostra guida finalmente sarà la guida, sarà accessibile anche alle persone cieche e i poverenti, lo potranno navigare tranquillamente perché finalmente siamo riusciti a rispettare le norme, le famose WCAG 2.1 che sono le norme di riferimento per l'accessibilità. Insomma Gerry sei stato in qualche modo chiamato in causa, tu sei il padrino insomma delle cene nel buio, allora hai qualche altro suggerimento da dare a Roberto Vitali per l'accessibilità insomma per tutti, abili o meno abili, ciechi, vedenti? Allora innanzitutto sono contento di questa iniziativa per il concetto di accessibilità per me estremamente significativo, quindi l'idea di creare un'accessibilità che consenta alle persone di poter viaggiare ed esplorare posti sempre diversi lo trovo veramente geniale, quindi complimenti all'iniziativa e all'inventore di questo progetto e poi mi piace quest'ultimo aspetto che ho detto dell'accessibilità anche per le persone non vedenti, a livello proprio di scienza, delle informazioni presenti all'interno di questa guida, quindi come suggerimenti sicuramente un'attenzione a quelli che sono gli aspetti della gastronomia, quindi torna a questo concetto della cena nel buio, magari immaginare dei posti dove poter fare anche dei viaggi ad esplorare gusti, sapori e cose. Noi con la cena lo facciamo all'interno di sale completamente buio e chiunque magari andando in un posto può sperimentare anche i sapori tipici del territorio e le prelibatezze del buio, quindi insomma un'attenzione al gusto secondo me in una prospettiva di vacanza e di viaggio ci sta sempre. Insomma faremo le scene nel buio un po' dappertutto Roberto, mi sembra di capire se vuole esportare il suo modello Jerry Longo. Assolutamente disponibile, è pronto, è pronto, il guru del turismo accessibile ha detto sì. Roberto facciamo un passo indietro, si può fare, ma tu perché poi hai deciso un bel giorno di mettere, diciamo così nero su bianco per usare un termine antico, criteri di accoglienza per tutti, insomma parlavamo di cena, anche i portatori di intolleranze alimentari sono contemplati della tua guida, tanto per parlare di cene o di brandi. Allora intanto ti svelo un segreto che in realtà non è un segreto, io sono quello che si potrebbe chiamare il frontman di Villas for All, ma Villas for All è fatto di due, prima di tutto di due persone, siamo io e Silvia, la mia socia con cui nel 2008 siamo partiti per realizzare questo progetto che in origine era l'idea di realizzare un network di strutture accessibili che mettessero attraverso le loro informazioni le persone con disabilità con diverse tipologie di esigenze nelle condizioni di poter scegliere la loro vacanza. Il nostro progetto che abbiamo creato nel 2008 io e Silvia aveva quindi l'obiettivo di non concentrarsi sulle disabilità ma sui bisogni delle persone. Questa nostra esigenza, questo nostro taglio ci ha portato a guardare le strutture e a pensare come valutare l'accessibilità partendo da dati e informazioni oggettive. Le esigenze che sono legate a una persona con disabilità che sta seduta su una carrozzina oppure una persona cieca o ipovedente, una persona sorda e ipoudente, ma anche una famiglia con bambini piccoli, un senior over 65 o chi ha intolleranza elementare, in realtà se tu li prendi, li appoggi in diversi strati uno sull'altro, quello che ne puoi estrarre sono i bisogni, sono le esigenze e come dico sempre io, le persone disabili che fanno turismo, sono turisti, concentriamoci sul consumatore, concentriamoci sulla resta di qualità che la struttura turistica è in grado di dare. Io credo che anche Gerry sia d'accordo con me quando vado fuori per andare al ristorante, non cerco un luogo accessibile o un posto dove si mangia bene, anzi dove si mangia molto bene. Quindi io debbo trovare il modo di estrarre l'informazione principale per poi aggiungere quel corollario di informazioni che mi permettono di avere sotto la voce qualità la risposta alle mie specifiche esigenze. Chiaro che prima di tutto in un ristorante quando vado ci deve essere quel prodotto straordinario che mi fa dire vado a mangiare là perché ne ho voglia, perché voglio sperimentare, ma poi dopo magari andiamo a vedere se c'è anche quel tipo di accessibilità che è in grado di rispondere alle specifiche esigenze. Perciò questo ragionamento che abbiamo fatto è prestare attenzione ai bisogni e alle esigenze che esprimono questi consumatori ci permette anche di togliere quel peso della disabilità che molto spesso disorienta le persone, disorienta le imprese, disorienta anche la nostra stessa comunicazione. Ancora oggi sentiamo parlare di diversamente abili quando invece in realtà noi stiamo parlando di consumatori, le persone disabili con turismo sono turisti, io lo dico da 30 anni ormai. Certo, ecco lo confermo che alle cene del buio si mangia bene, io le ho sperimentate e anche in compagnia, perché anche il fatto di potersi muovere in compagnia non è solo un'esigenza delle persone cieche, ma anche di quelle vedenti che comunque stanno bene magari girando con amici e con le loro famiglie, un po' questo è anche lo spirito della guida di Roberto. Allora Gerry, a proposito di poter fare tutto, tu lavori all'Enac e ti sei occupato tra le tante cose anche di far volare i ciechi, insomma raccontaci un po' questa esperienza, li vuoi fare volare anche nei villaggi che pratica Roberto Vitali? Allora diciamo che io ho l'Enac da diversi anni e nel caso specifico giustizio per i passeggeri PRM e non solo e in questa esperienza di lavoro nel 2011 c'è stata l'idea con Alitalia di creare un progetto congiunto per sviluppare un documento informativo, una cosiddetta hard, pensata per i passeggeri non vedenti. è presente attualmente sui voli di Medioraggio all'Italia, questo puscolo che serve alle persone non vedenti e povedenti a ricevere le informazioni chiare sulle procedure di equazione in caso di emergenza oppure come la maschera del geno, giubbetto salvagente, tutte quelle classiche procedure a bordo generalmente un non vedente fa fatica a capire, sono sempre illustrate con gesti o con informazioni visive, un documento nel 2011 è stato implementato a bordo dei voli proprio per consentire alle persone con difficoltà visive di sapere come comportarsi in caso di necessità. Siamo stati i primi tra l'altro al mondo, sia come Enel che come l'Italia, a fare un'iniziativa di questo tipo informazione chiara, diretta, attuale ai passeggeri con ridotta mobilità, in modo particolare non vedenti. Grazie Gerry. Roberto, tornando alla guida, i criteri di consultazione quali sono? So che quest'anno c'è anche un discorso legato alle spiagge accessibili, non so se sono a parte oppure all'interno della guida, comunque raccontaci tu. Allora, sicuramente il territorio, i tematismi, cerchiamo mare, montagna, cerchiamo luoghi di cultura ma anche gli ausili. Ho bisogno della carrozzina per andare a fare il bagno a mare o della passerella, mi serve il sollevatore per entrare in piscina, o anche le competenze, il fatto di trovare un luogo dove sono specializzati, ad esempio, nell'accogliere i nostri amici pelosi, i cani e soprattutto, oppure avere un'alimentazione certificata senza glutine. Quindi questi sono solo alcuni dei parametri in base ai quali si possono fare le ricerche. Il progetto di cui accennavi tu è un'indagine che abbiamo lanciato quest'anno assieme a Lega Ambiente, a Turisti per Caso e a Mondo Balneare, per cercare di dare stimolo agli stabilimenti balneari per farsi riconoscere quando sono accessibili. Noi abbiamo 7.000 chilometri di spiaggia in Italia, abbiamo 7.000 stabilimenti balneari. Io ricordo che qualche anno fa è uscita un'indagine per vedere quanti di questi fossero veramente accessibili, si arrivava a 200-300, secondo le dichiarazioni delle persone che diciano questo, quello è accessibile. e poi se parlavo con un paio di miei amici, che anche loro non vedono, amici non vedenti, mi dicono ma guala ce n'è uno, ce ne sono due. Quindi siccome l'accessibilità poi è sempre un concetto molto personale legato alle esigenze delle persone, non solo al rispetto delle norme, ovviamente stiamo cercando di partire dallo stabilimento balneare per sensibilizzare poi tutte le destinazioni perché si comincia a lavorare in maniera organica per migliorare la propria ospitalità accessibile e per migliorare la propria accessibilità. E allora Gerry, tu se avessi tra le mani questa guida, come ti muoveresti nella ricerca? Oltre a cercare le scene nel buio, cosa vorresti trovare all'interno della guida? Insomma, da dove inizieresti a selezionare i criteri? Ma guarda, un criterio che sicuramente ho riuscito molto è l'attenzione che è stata posta al concetto di qualità, perché secondo me non può esistere accessibilità, io la guida ancora non la conosco ma sicuramente la consulterò presto, però secondo me non può esistere accessibilità senza un print di qualità. Sembra che a volte le due cose non viaggino in parallelo, invece in questo caso la dimostrazione proprio che far bene significa garantire accessibilità ma allo stesso livello qualità. Quindi tutti quei luoghi, quei posti, prima si parlava di spiaggia accessibile, ma immagino anche strutture alberghiere, tutto che può essere qualitativamente valido e allo stesso tempo una garanzia che arrivando lì uno non debba ogni volta mediare, scontrarsi su posso fare questo, non lo posso fare. Spesso magari uno immagina una meta di viaggio perché altri amici ci sono stati, poi magari ti programmi il viaggio e arrivi lì e scopri che altre cose non possono essere offerte perché non sono accessibili. Quindi sicuramente cercare luoghi che più magari mi incuriosiscono anche su suggerimenti di amici e andare subito a individuare quei posti o quei tori che più magari soddisfano i miei gusti personali. Perché non so, io a montagna, quindi poter fare escursioni nel verde, passeggiare, e soprattutto buono, perché insomma poi viaggiare significa anche, come dicevo prima, scoprire i sapori, i suoni del teoreo. Non avere sorprese, insomma, trovarti già con una situazione già delineata. Eh sì, infatti un suggerimento per esempio che mi verrebbe in mente adesso da ipotizzare duro è un quale che riguardi anche proprio l'esplorazione proprio sensoriale, quindi luoghi dove magari anche la possibilità di viaggiare con i sensi possano diventare lo spunto per il visitatore, quindi anche percorsi mirati o suggerire alle strutture anche di creare delle iniziative mirate proprio per fare coincidere questa possibilità di accessibilità della struttura ma allo stesso tempo anche di attenzioni mirate. Insomma, le idee sono tante, quindi benvengano. Non so, se faremo in tempo, perché la guida sta per uscire, la avrai fra le mani molto presto, e comunque magari ecco sulla prossima edizione suggerire anche ai tour operator insomma di dare spazio anche ad iniziative tattili, insomma comunque accompagnamenti. Ce l'hai? Ce l'ho, ce l'ho già, adesso io non volevo fare un'errecazione noiosa di tutte le cose, però siccome la guida sarà pronta a breve, mi impegno, Gerry, la prima copia che è digitale è tua e la sfogliamo assieme e te la illustro con molto piacere, perché ci sono anche molte più cose di quelle che si possono raccontare in una intervista senza renderla troppo noiosa. Però c'è. Va bene. Bene, con grande piacere ti darò il mio parere. Vi troverete, vi troverete. Allora le vacanze stavamo dicendo ormai insomma sono qui che arrivano, insomma e quindi cominciamo da te Roberto, tu ti muovi normalmente con la tua famiglia, i due bambini insomma quest'anno, quale località andrai a testare di persone? Beh, sicuramente il mio impegno inizia da Bibione, tu sai noi stiamo lavorando da quattro anni su questa destinazione e abbiamo realizzato per gli imprenditori di Bibione una destinazione, stiamo continuando a lavorare per realizzare una destinazione turistica accessibile che sappia rispondere a tutte le esigenze. Dopo quattro anni di lavoro dove ho lavorato fino all'altro giorno, adesso vado a fare anche il tester in prima persona con la mia famiglia, ma Bibione è solo il punto di partenza perché poi io durante tutta questa estate farò il giro pressoché di tutte le destinazioni, abbiamo anche delle nuove strutture che si sono candidate per entrare nel nostro network e quindi come dire, è un lavoraccio ma qualcuno lo deve fare fino alla fine di settembre, mi toccherà di girare in lungo e largo per l'Italia con qualche capatina anche in paesi vicini. In vacanza per lavoro insomma, che lavoraccio eh! Gerry, invece tu dove andrai in vacanza? È vero? Non so se tu lavorerai facendo vacanze, però insomma hai qualche obiettivo, qualche desiderio? Come ti muoverai? Assolutamente sì, ho più di un desiderio e mi viene proprio da dire che se c'è bisogno di supporto, di qualche magari accompagnatore, solo qualcuno che porti le borse, io mi offro candidato per essere presente in questa esperienza. No, comunque a parte le battute, l'idea di quest'estate sicuramente è di prendermi qualche giorno, qualche settimana di vacanza, perché in questo periodo un po' come tanti sto lavorando in smart working, è una meta che mi piacerebbe rivedere, perché ci sono stato in passato, mi è piaciuta tantissimo, è la Puglia. Un territorio che offre tantissime possibilità, quindi non escludo quest'estate l'idea di prendermi qualche giorno a ritornare ecco nel Salento, perché lì è un'esperienza immersiva, tra odori, sapori, mare, collina, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti, quindi penso che la mia estate un po' la passerò lì in Puglia e poi magari un po' in Sicilia, perché ho mia sorella che vive, insomma sicuramente al meridione, mi farò rapire dal meridione. Punterai sulle zone calde, ecco Roberto prima così diciamo di questa chiacchierata parlavamo e mi dicevi Roberto che insomma le cose al di là delle buone intenzioni a livello anche istituzionale insomma vanno meno bene di quello che dovrebbero, ecco c'è ancora tanta strada da fare sul piano dell'abbattimento delle barriere, ma non solo architettoniche, io direi soprattutto culturali, beh questo te lo posso confermare, dobbiamo ancora crescere dal punto di vista culturale, tieni presente che io ahimè conservo una memoria storica, è quasi 30 anni che mi sto occupando di turismo accessibile, noi tantissimi anni che ci conosciamo dalla nostra Ferrara, dall'attività che svolgevo, l'attività che ho fatto prima di tutto nella nostra città e noi siamo partiti da una cultura dove di disabilità se ne potevano occupare solo i disabili o meglio i familiari dei disabili e quindi quando io ho cominciato a occuparmi di turismo tutti dicevano, vabbè Roberto Vitali paraplegico in carrozzina si occupa del turismo di quelli in carrozzina arrivare a far passare il messaggio che mi occupo di tutte le esigenze e che la mia professionalità è sulla qualità, è una cosa sulla quale sto ancora lavorando, io sono il peggior rappresentante della mia azienda, cioè c'è subito questo misunderstanding e quando trovo anche persone che non hanno disabilità e si occupano con professionalità di lavorare per promuovere l'accessibilità, anche loro mi confermano e si sentono dire come tu ti occupi di accessibilità che non sei disabile, ma perché te ne interessi? Ecco, io il cambiamento, il nuovo paradigma che vorrei cercare di portare in questo mondo di grandissimi professionisti, perché noi in Italia alla fine siamo comunque all'avanguardia nella promozione turistica, nel turismo nel mondo con punte di grandissima eccellenza vorrei riportare il centro e l'attenzione sul turista, che può essere un turista che ha una qualsiasi condizione e in quanto tale, io dico quando, ripeto che le persone di turismo quando le persone con disabilità fanno turismo sono turisti, vuol dire che io ho il portafone in tasca, vuol dire che quando vado al ristorante, come dicevamo prima, andiamo in un ristorante si mangia bene, io pago quando riesco esattamente per gli altri, la stessa cosa voglio fare da un hotel, la stessa cosa voglio fare da un campeggio, infatti per scelta nel nostro network ci sono strutture di ogni livello, c'è questo stereotipo per cui l'accessibilità è solo per i 5 stelle sul livello superiore, non è assolutamente vero nel nostro network, ci sono appartamenti, ci sono campeggi, ci sono RTA e l'accessibilità è prima di tutto un mindset, un modo di ragionare, un modo di pensare che deve andare assolutamente in quella direzione, cerchiamo di fare questo tipo di cultura con gli imprenditori, con i politici, con gli amministratori e perché no anche con le persone con disabilità, che non è che siano avulse da avere dei pregiudizi rispetto alle persone non disabili, ognuno di noi ha i suoi pregiudizi, i suoi stereotipi che a volte vanno presi in mano, vanno rielaborati, affrontati, soprattutto con la coscienza che prima di tutto siamo dei consultori. Certo, Gerry, ormai mi sono persa il conto delle tue fidanzate con cui hai viaggiato, io non sono stata fidanzata con te però con te ho viaggiato, io e te abbiamo girato insieme, insomma devo dire che ci siamo anche tanto divertiti, io ti ho fatto da accompagnatrice però insomma in fondo mi hai guidato tu, quindi se tu avessi una bacchetta, anzi un bastone magico in questo momento, da dove cominceresti insomma a materializzare i tuoi sogni, i tuoi desideri. Comunque, ricordo veramente con dei piacere le esperienze di viaggio che abbiamo fatto un po' di tempo fa perché è stata veramente l'occasione per scambiarsi informazioni e punti di vista, uso volutamente questo termine, differenti perché è vero che in quella circostanza tu hai guidato me, ma altrettanto io ho guidato te. Tu hai guidato me, a parte che guidavi proprio materialmente tu la macchina, quindi insomma io non avrei potuto farlo, e poi perché tu, con i tuoi occhi, con il tuo lavoro, anche proprio di attento, mi hai raccontato il mondo che ci circondava in quel momento, quindi tutto quello che avevo attorno, ma allo stesso tempo io guidavo te a darmi le informazioni corrette, quindi a filtrare certe informazioni, a porre l'attenzione su alcune rintesi che su altri, quindi questo per dire che cosa... Mi hai anche allacciato un bustino, è vero, perché io dietro non ci arrivavo. Entriamo anche nell'intimità, in un autogrill. Poi gli ascoltatori potrebbero fare pensieri strani, però io ero avvantaggiato. Non ha sentito la tua organizzata attuale, va bene. C'è da dire che, in caso c'era il vantaggio che io non vedendoti, e comunque ero tutelato, altrettanto tu, però ti serviva una mano. In quel caso davvero ci siamo aiutati perché io ti ho raccontato cosa percepisco, cosa vedo muovendomi magari dagli stimoli ambientali che mi arrivano a livello, come abbiamo detto più volte, di suoni, odori, percezione anche di un ambiente che cambia in base al contesto. E questa cosa, per dire che a volte c'è l'idea di non sapere coggiare con una persona con disabilità. Magari a un non vedente uno la domanda gliela pone spesso, dice vabbè ma tu che non vedi che viaggia fa perché tanto non vedi la bellezza di un mondo, non vedi un paesaggio. Una cavolata assurda perché viaggare significa non solo poter osservare con gli occhi, ma significa anche sperimentare il territorio entrando proprio in tutt'uno con l'ambiente, vivendolo non solo passivamente come si può fare con lo sguardo, ma attivamente facendo, come abbiamo detto, l'esperienza del gusto, del tatto, dei suoni, eccetera, eccetera. Quindi l'esperienza che abbiamo vissuto io e te è stato un dono reciproco perché io ti ho fatto vedere un po' di più cosa percepisco e tu mi hai raccontato un po' il mondo dei cosiddetti vedenti, insomma, quindi... Ma diciamo anche della relazione con le persone, no? Perché tu percepivi molto meglio di me, soprattutto nella loro essenza, no? Magari io mi fermavo all'apparenza, però tu capivi subito chi c'era dietro quello sguardo, quella che io vedevo, ma che tu percepivi e quindi dicevi guarda, no? Mi sfida, oppure no? Guarda che lì, diciamo, c'è una persona e questa capacità diciamo di captare che magari, insomma, chi sviluppa altri sensi si perde un po', ecco, quindi voglio dire andare a viaggiare vuol dire anche incontro, no? Con i luoghi, ma anche con le persone, insomma, questo è molto importante. Devo accelerare perché ci stiamo allargando molto e io sto molto bene con voi, quindi vorrei andare avanti all'infinito, insomma. Roberto, c'è un episodio della tua vita che ti ha, diciamo così, segnato in cui non ti sei sentito per te, insomma, è un po' all'altezza, ecco, anche se tu in realtà ci surplassi molto spesso. Beh, guarda, io sono abbastanza, come dire, caparbio e tenace nelle mie cose, credo che mi occorri con un regoletto e lo dimostra. Il luogo dove più mi sono sentito non alla testa, ma non per colpa mia, è stato quando ho inserito mio figlio a scuola, all'asilo, perché per tutta una serie di motivi l'ho dovuto inserire in un asilo non accessibile e quindi per un anno io non ho potuto andare a prendere mio figlio a scuola e quindi io nella mia vita ho avuto e ho fatto tanti ruoli, imprenditore, dipendente, atleta e quello che vuoi, ma quello del babbo, come si dice, è uno dei ruoli che ho sempre ritenuto più importanti ed è quello che mi ha fatto soffrire di più perché purtroppo sembra una cosa banale, ma non poter andare a prendere il tuo figlio a scuola così come non puoi portarlo, come dire, è una roba abbastanza fastidiosa che poi ti resta. E tu Gerry ti faccio la stessa domanda. Sei stato anche al grande fratello, insomma, quindi anni e anni fa. Non mi sono fatto mancare nulla. Sì, diciamo che a livello di esperienze di vita non mi sono fatto mancare veramente nulla, quindi anche quella è un'esperienza in un certo senso di un viaggio, ma più verso l'animo umano, perché il contesto del reality è un contesto che ha delle pecore, ma magari ne parleremo in un'altra circostanza. Situazioni di difficoltà di disagio? Sì, ce ne sono state tante in questi anni, ma a volte nel quotidiano, quando mi sento dire le persone magari si pongono più il problema di usare un linguaggio più consono a non prendere la sensibilità, come ad esempio non citare la parola cieca, la parola hai visto un film, quindi magari si pongono più quel pensiero lì e poi gli stessi che creano il disagio magari non rendendo i bisogni del cane che ha fatto il suo bisognino sul marciapiede e poi rischia di passare il bastone, oppure quelli che parcheggiano la macchina in punti dove non dovrebbero, cioè è come se si ponessero il problema di usare più una forma dell'attenzione e non una sostanza di rispetto dell'individualità altrui. Quindi diciamo che di esempio ne potrei fare tantissimi, però uso questa circostanza per dire a volte le persone preoccupatevi più della concretezza, cioè andate incontro all'altro magari chiedendo all'altro in che modo possa aiutarti, qual è la cosa che secondo te io o le persone possiamo fare per renderti la vita più facile, perché della guida secondo me lo dimostra, cioè poco una struttura, un proprietario di un albergo, qualsiasi cosa può fare quella piccola differenza che diventa cultura, apertura e possibilità a tutti. Quindi secondo me ecco le barriere prime che fisiche, poi questo l'avremmo detto tantissime volte, però sono mentali, nell'aver paura di rapportarsi all'altro inteso come diverso, perché quel diverso ci mette di frontessi e in fondo è una paura che spesso abbiamo con noi stessi. Certo, noi abbiamo, nell'altro poi proiettiamo quelle che sono le nostre paure, quindi è sempre diciamo un discorso che va risolto prima dentro di noi, prima di relazionarci con l'altro. Senti Roberto, questo lockdown ti ha penalizzato? Sei stato molto in casa, la tua carrozzina ha messo, dicevi prima, un po' di erba alle ruote, insomma, come esci da questa situazione? Guarda, io esco da questa situazione con il muschio alle ruote, cosa che non è mai successa, perché io ho sempre fatto una media di 70-80 mila chilometri, preso aerei e treni, presso che con la continuità sfissiante e ritrovarmi a non muovermi da casa, come dire, alla seconda settimana mia moglie mi ha guardato e i miei figli mi hanno guardato e mi hanno detto, ma e quindi quando è che vai via? Come dire, siamo fatti a vederci a casa. Ecco, mi sono, in realtà io sono un lavoratore, uno smart worker ormai da 5-6 anni perché ho spostato la mia azienda da una sede fisica al cloud e quindi quello che è successo non mi ha trovato impreparato. L'unica cosa alla quale non ero preparato, devo ammettere, è passare le giornate su Zoom e vari sistemi di videoconferenza, dove devo ammettere che in quest'ultimo anno ho fatto veramente tanta, tantissima, tantissima formazione, tanti incontri, tanti webinar e tante opportunità per parlare di accessibilità, di inclusione, di turismo, cioè di tutti quei temi che sono di corollario proprio al tema dell'inclusione e della resilienza che ci troviamo ad affrontare, ci troviamo ad affrontare tutti assieme. Adesso devo dire che poi l'estate scorsa, bene o male, comunque abbiamo viaggiato abbastanza liberamente, io ho passato il mese di agosto in giro per il Sud Italia a visitare tutte le mie strutture e sarà la stessa cosa che farò anche quest'anno. Però credo che sia stato anche una grandissima opportunità, possiamo dire che è un'esperienza di cui vanno prese gli aspetti positivi, sicuramente ci sono state delle negatività, ma io ritengo che sono state molte di più le cose positive, le cose che ho imparato e che ho incontrato sulla mia strada che mi fanno essere ottimisti, ma anche per questa ripartenza che il turismo oramai ha ingranato già la marcia, adesso cominceremo a sentire il motore che ruggisce. Ci siamo, comunque non ci siamo annoiati. E tu Gerry, hai fatto più radio? Che hai fatto? Come esci? Io mi sono concentrato, guarda, ne è tutto sommato bene perché innanzitutto il lockdown un po' mi ha riportato a quell'isolamento, ho vissuto neanche dirlo quando ho fatto il reality perché alla fine, anzi forse è stato più facile quello che questo perché qui ero completamente da solo, lì almeno avevo un minimo di socializzazione. Però al di là di questo mi sono concentrato molto sulla mia grande passione che è la radio, ho continuato a fare radio dalla mia postazione che mi sono costruito dentro casa, anziché ospitare le persone in studio abbiamo fatto dei collegamenti via Skype con altri sistemi e comunque ho continuato a mantenere i contatti il più possibile con il mondo perché comunque la socializzazione, quella secondo me non deve mancare mai a prescindere da tutto. certo è cambiato lo strumento, poi nel caso di una persona non vedente il rapporto umano, diretto, anche tattile nel nostro caso è fondamentale e questo purtroppo durante l'occasione del lockdown non c'è stato, anche adesso è difficile potersi scambiare un abbraccio, un contatto fisico, non sono molto amante devo dirlo, dei social perché sì ci sono stati di aiuto in questo periodo però preferisco sicuramente ecco poter stare fisicamente assieme alle persone, poter viaggiare e condividere proprio un'esperienza immersiva, quindi però insomma è l'augurio per il futuro. Un gelato insieme non si può mangiare, è già per radio o via Zoom, comunque l'augurio dicevi è di poter tornare presto ad una vita normale, insomma tra virgolette normale. Eh sì, perché poi non vedendoci uno non può neanche beneficiare del video della persona, cioè in questo momento io non posso godere della vostra immagine e quindi diciamo che poi anche tutte le persone dicono vabbè ma tanto fai l'aperitivo via Zoom, sì ma a me cambia fare l'aperitivo, comunque non vedo la persona, quindi possibilmente sì è come se lo facessi al telefono ma insomma non mi cambia granché. Noi ti troviamo in gran forma, chiedati. Ah meno male, ti troviamo in gran forma. Qualche chimento c'è ma non si vede. Lasciamo stare. Allora, brutto tasto. Roberto, in due parole come scaricare la tua guida? La mia guida si può scaricare dal sito villageforall.net, sezione guide appena sarà disponibile la troverete, poi sicuramente attiveremo anche tutti i banner pop-up possibili, sarà distribuita a tutte le associazioni che come tutti gli anni ci riconoscono il loro patrocinio e l'utilità nell'utilizzo delle nostre guide e quindi anche Anmil lo riceverà, lo metterà e lo potrà mettere a disposizione di tutti i propri soci e chiunque lo vorrà, infochiocciolavillageforall.net, basta un'email e la distribuiamo a tutta velocità perché ovviamente ormai è ora di cominciare a organizzarci, dobbiamo scoprire le destinazioni, le opportunità e i luoghi dove andare e correre e consumare le nostre vacanze. Guida gratuita, lo ripetiamo, Gerry invece le tue cene nel buio, se uno volesse partecipare. Le cene, diciamo che al momento per ovvi motivi sono in pausa, siamo fermi, contiamo di partire il prima possibile e credo sicuramente dopo l'estate perché generalmente l'estate comunque ci fermiamo, quindi mi auguro ecco da fine settembre-ottobre con una situazione diciamo pandemica più favorevole, quindi con una situazione per tutti decisamente migliore e il sito è facilissimo perché cenanelbuio.com, quindi ripeto cenanelbuio.com e non cena al buio perché quella è un'altra cosa, quindi noi cena nel buio, chiunque volesse saperne di più sul sito ci sono informazioni, descrizioni e appena avremo il nuovo calendario degli eventi lo pubblicheremo e siamo anche disponibili per tutte quelle attività anche di formazione aziendale o di creazione di eventi privati come compleanni eccetera eccetera, insomma la cena si presta anche molto a questo tipo di situazioni di condivisione anche per le aziende, quindi è un format che esiste da 13 anni, esportato ormai in molti contesti e l'idea per chi non lo sapesse nasce a Berlino oltre vent'anni fa, ma magari poi ne parleremo in un'altra circostanza. Comunque cenanelbuio.com, lì trovate tutto. Perfetto, ecco hai fatto bene a ripeterlo anche perché ci siamo persi qualcosina, però insomma nella sostanza abbiamo sentito tutto. Allora, aperto e vitali e poi passate l'estate sperando che il lockdown ce lo consenta, tutti pronti per le cene nel buio di Gerry Longo. Grazie per avere partecipato a questa chiacchierata e allora buone vacanze a tutti. Grazie a te a Gerry e a tutti gli amici ascoltatori.